Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, variante, rallentamenti per veicolo fermo e navaria verso sud tra Badia e Firenzuola. Per traffico restano rallentamenti verso nord tra Calenzano e Bio 1, variante. In A11 coda per traffico verso Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Cipilì un chilometro di coda per veicolo fermo e navaria in direzione mare tra Firenze vedotte all'Indiano e Firenze Scandicci. In carro di auto opposta restano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario regionale 18851 in Polichiusi e limitato a Poggibonsi per un intervento delle forze dell'ordine. I viaggiatori possono utilizzare il treno 18223 da Poggibonsi a Siena e autobus sostitutivo da Siena a Chiusi. Per il traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via delle porte nuove, quelli per gli allacci alla rete idrica in via Volterrana e via Romana e quelli alla rete del gas in via Retina e via Giuberti. Buonasera di Toscana Infant Service in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!